E tutto va per il meglio in casa Shuna, la piccola inizia a sorridere, la padrona di casa innamorata, come sempre, mentre il padrona di casa qualche volta è un grosso, perché neppure lui lo sa, dovrebbe essere felice di avere una moglie o una beva così, e invece non mostra affatto di essere no, e sua moglie diventa triste. Tu sai, Clara, che cos'è che spesso mi rende inquieto, è scontroso, è il pensiero di tuo padre, ma è meglio che l'intaccia su questo argomento. Spesso si tratta anche di insoddisfazione verso me stesso, per la mia situazione artistica e letterale, non essere in color con me, mia cara Clara. Il cuore di un artista si trova sempre in un stato di turbamento, sospitto da un'incessante inquietudine. Poi però, ritornano anche ore più serene, e noi ne abbiamo vissute molte, e così breve. Anche Clara ha composto una cosa che ha un carattere davvero bello. Ora deve riprendere a suonare regolarmente, ma in lei l'artista dovrà più di una volta sacrificare qualcosa alla madre. Il nostro angioletto mostra di sentire già il fascino della musica quando è inquieta, Clara e suona qualcosa, e allora si calma e prende suono. Grazie a tutti. Grazie a tutti.